Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare l'ultima sfida di Tony Stark, che richiede di utilizzare un emote di Iron Man qui nei laboratori delle Stark Industries. Una volta che avete raggiunto 100 come livello nel pass battaglia ed avete sbloccato Tony Stark e le sfide, non dovete far altro che posizionarvi qui e utilizzare questa. In questo modo sbloccherete Iron Man e completerete l'ultima sfida di Tony Stark. Grazie.